buongiorno a tutti ragazzi oggi vi faccio vedere il mio nuovo ordino ieri mi è venuto l'ispirazione mi sono messo in macchina e qualcosa ho tirato fuori non è bellissimo ma io lo trovo abbastanza carino io sinceramente lo vedo come rifinitura di una copertina ma non solo perché questo è bello lineare e lo vedo bene come rifinitura di una scollatura b e perché no una rifinitura di una bella giacca secondo me ci sta e lo facciamo insieme non è difficile ci provo e vi faccio vedere cosa ho combinato intanto vi dico che quando faccio questi bordi di solito uso più funzioni anche questa volta non mi smentisco perché ci vuole un punzone da 3 e 1 che è quello che si usa di più un punzone da 2 e un punzone da 7 chi non ha il punzone da 7 deve adeguare gli aghi iniziali io parcheggio un attimo il punzone da 7 e quello da 2 perché non mi serva e vi dico che si inizia con 9 aghi al lavoro come vedete io ho fatto un segno perché è perché adesso poi strada facendo lo capirete ho fatto un segno perché quando si fanno questi lavori è facile sbagliare e all'inizio in particolare io me li segno poi magari dopo che lo faccio 10 minuti un quarto d'ora che capisco i spostamenti non c'è più bisogno di segnare la prova la faccio con un cotone e lo stesso cotone della prova che ho fatto io qualche giorno fa dove ieri ho fatto questo bordo con tre fili di lana 230 con un contrasto di colore oggi lo faccio qui con lo stesso colore come sempre quando faccio questi bordi il rovescio deve essere dalla vostra parte e se fate il bordo in una copertina io consiglio di non iniziare mai dall'angolo iniziare sempre un po spostato in modo che poi per fare la cucitura viene meglio se questo bordo lo usate per fare la rifinitura in una copertina nell'angolo poi dovete adeguare i giri giusti per farlo girare perché questo bordo è abbastanza lineare allora si parte con 9 aghi al lavoro e io faccio la prima punzonata cosa vuol dire funziona da 3 e li metto al lavoro dalla parte sinistra adesso mi tiro fuori gli aghi lavoro con la mano sinistra perché con la destra sono impegnato a tenere il cellulare non è che lo tengo con la mano destra ma lo tengo sul tre piedi che sulla mia destra e faccio due passate attenzione consona per il cotone che sto lavorando quasi 5 arrivato a questo punto ecco il segno che io ho fatto all'inizio perché questo segno non è altro che il primo ago di sinistra dei 9 iniziali io da questo segno devo partire un zone da 3 e mi sposto un ago verso destra adesso funziona da 1 prendo una funzionata con un punto e lo metto al lavoro lago che svuoto lo metto al lavoro in modo che mi fa il buco e continuo se prima ho fatto la funzionata a partire dal lago segnato adesso mi sposto di un ago praticamente dal secondo ago iniziale sempre dei 9 e mi sposto a destra sempre di uno funziona da 1 2 passate adesso vado avanti sempre mi sposto sempre di un ago verso destra che poi non è difficile a guardare perché se guardate bene si vede qui è dove ho creato il buco io adesso ed è il lago che è rimasto vuoto poco fa e adesso mi sposto di un ago verso destra sempre funziona da 1 a sinistra come vedete il bordo viene tutto attaccato tanto è vero che qui in questo bordo non serve il nastrino perché il buco non viene abbastanza grande se volete il nastrino ve lo dovete modificare per le vostre esigenze intanto io vado avanti risposto sempre di uno ancora una funzionata a sinistra adesso devo fare l'ultimo spostamento verso destra e l'ultimo aumento verso sinistra e questo giro è quasi completo detto quasi perché ancora il giro non è finito adesso mi serve funziona da 7 prendo i sette aghi di destra e li a cavallo tutti a sinistra attenzione senza perdere punti eccolo qua funziona da 2 come vedete qui ci sono quattro aghi prendo i due esterni a sinistra e li a cavallo a destra noi in questo momento abbiamo nove aghi iniziali come quando abbiamo iniziato questo è il giro completo adesso questa carta ovviamente non mi serve più perché io mi sono spostato perché quasi tutti i bordi che faccio io man mano che si procede con il lavoro il lavoro si sposta verso sinistra quando poi arrivato ad un certo punto che a sinistra non potete più lavorare prendete la funzionata e valla spostate a destra ricominciamo il giro perché questo è il giro completo del bordo io mi tolgo il segno così pulisco funzionata da 3 perché all'inizio la funzionata deve essere da 3 e facciamo un altro giro e da qui iniziamo a fare lo spostamento sia a destra e aumentare un ago verso sinistra a presto a presto Grazie. L'ultimo aumento. Puzzone da 7. Tirateli fuori se volete perché tanto non succede niente, anzi quando passi il carrello aiuta a scaricare la maglia. Secondo giro completo. Certo, tinta su tinta a me risulta un po' meglio perché non vedo la punzonatura come in questo caso. Guardate, perché se la punzonatura, quando c'è il colore di contrasto, non è dritta, vedete? Si vedono i punti sbavati in questo caso. Perciò quando fate le punzonature tenete sempre il dritto filo. In questo caso, tinta su tinta, non si vede tantissimo, però vi consiglio di tenerlo sempre il dritto filo. Bene ragazzi, il bordo è questo. I passaggi sono questi. 9 aghi iniziali. In macchina, punzoni da 3, da 2 e da 7. Il 3, quello 3 a 1 perché è quello che si usa di più. Ogni passata, andata di ritorno di carrello, una punzonata verso destra, si aumenta un'acqua a sinistra. Spero di essere stato chiaro. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutte!